Ho deciso di partecipare a Temptation Island VIP perché da marzo ho ripreso la mia love story con Patrick. Voglio capire se questo rapporto riprenderà il volo oppure no. Valeria ha un carattere difficile. In questo programma credo che mi darà la possibilità di vedere meglio se ci sarà un futuro in questa storia oppure chissà. Temptation Island VIP, prossimamente su Canale 5.